E nell'89 sono andata a lavorare nel primo istituto di sopporto psicosociale per i sopravvissuti dell'olocausto, perché in Israele abbiamo preso il nome che usano gli americani, e così ho cominciato a lavorare lì, mi sentivo veramente in dovere di fare questo lavoro. Io avevo fatto una terapia lunga e dolorosa e credevo di avere gli strumenti per aiutare anche gli altri, altre persone che volevano continuare a vivere meglio di prima, tra i sopravvissuti. E allora ho lavorato per 11 anni in questo istituto. Cosa era successo con queste persone che sono venute in terapia? Non sono venute molte, perché sono stati 400.000 di sopravvissuti arrivati in Israele, in Palestina, prima poi in Israele. Tutti hanno continuato la loro vita, hanno fatto tutto quello che dovevano fare, come delle persone completamente normali. Vuol dire sono venuti, hanno lavorato, si sono sposati, hanno avuto figli e così via. E poi, dopo la pensione, hanno avuto delle cadute tremende, perché soltanto allora è venuto a galla il loro trauma, che avevano subito nei diversi lager dove sono stati. Molti di loro avevano perduto tutte le loro famiglie, sono venuti in Palestina o in Israele, si sono risposati, hanno avuto delle famiglie nuove. E verso i 60 anni, 65, tutto è venuto a galla, tutta la loro sofferenza e tutti i loro ricordi. Per tanti anni hanno taciuto, come hanno taciuto in tutta l'Europa, in tutto il mondo, tutti quelli che hanno passato questa guerra tremenda, questo orrore. E dopo 11 anni sono andata in pensione. Grazie.